Oh, eccoci qua ragazzi, siamo tornati con una nuova puntata dedicata ai trucchi, segreti, piccole guide per i vostri smartphone. Insieme ai ragazzi di Twitch, la sera in diretta, stanno venendo fuori delle idee per i video davvero interessantissime. Questa è una di quelle perché Simone, alias Blasco, su Twitch mi ha consigliato di farvi questo video. Quindi piccoli accorgimenti da andare a settare nel vostro smartphone, MIUI, ma non solo perché funziona anche sugli altri Android e soprattutto funziona anche su Apple per alcuni concetti, per far sì che la batteria riesca a durare di più. Con questo video non vi voglio promettere 4-5 giorni di batteria perché non sono vanna marchi, ma vi voglio promettere sicuramente di andare a ottimizzare il tutto al meglio. Se l'idea vi piace, soprattutto se questa rubrica vi piace, mi raccomando qua sotto, schiacciate il tasto like su questo video, è importantissimo, condividetelo con i vostri amici e in particolar modo iscrivetevi al nostro canale YouTube perché avete visto, vi regaliamo anche buoni Amazon, avete preso 5 buoni dal valore di 10€, sono contento, anche se due persone non hanno ringraziato, ma va bene così andiamo avanti, come sempre lo dico, show must go on. E mi raccomando, nel box dei commenti, se ne conoscete altri, scrivetelo così andiamo ad allargare questa guida. Per prima cosa entriamo nel menu delle impostazioni, andiamo in Wi-Fi, in fondo troviamo impostazioni aggiuntive, quindi la stessa cosa più o meno risiede in tutti i vostri smartphone Android e vedete che abbiamo assistente Wi-Fi, quindi la ricerca intelligente delle reti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo smartphone va sempre in ricerca rete Wi-Fi per migliorarvi la navigazione. Queste cose vanno disabilitate, quindi, vedete, passa automaticamente da Wi-Fi alla connessione dati quando il segnale Wi-Fi è troppo debole. Questa funzione sicuramente è comoda perché quando siete magari lontani dal vostro router, quando avete una tacchetta di segnale, lui in automatico per farvi godere di una navigazione migliore vi passa alla rete mobile. Però questa cosa, questa funzione automatica fa sì che la batteria ne risenta perché praticamente lo smartphone è sempre in ricerca della rete migliore. Adesso parliamo di Mi Share che è una funzione dedicata alla MIUI, praticamente un servizio di condivisione che però lo avete anche sui Samsung, lo avete anche sui dati smartphone, si chiamerà in maniera diversa, però la funzione è sempre quella. Andiamo nel menu connessione e condivisione, entriamo dentro Mi Share e vedete dovete tenere disattivato Mi Share, questo servizio è un altro di quelli che di nascosto, quindi quando non ce ne accorgiamo, va a consumare batteria. Disattivandolo andremo sicuramente a migliorare l'autonomia dei nostri smartphone. Rimaniamo sempre all'interno connessione e condivisione ed entriamo dentro Stampa, servizio di stampa ON. Ecco, questo lo vado a disattivare perché è un altro di quei servizi che in background sicuramente un qualcosa a livello di percentuale a fine giornata viene risparmiato andandolo a disattivare. Altra cosa che io tengo attivo, ma solamente per comodità, è l'NFC, ok? Quindi il chip dell'NFC. Il chip dell'NFC è praticamente quel chip che a contatto ci permette di scambiare dati. Per esempio, volete pagare contactless? Per farlo dovete tenere abilitato il chip NFC. Volete passarvi dati oppure volete che le vostre cuffie Bluetooth compatibili con l'NFC ricevano il segnale quando toccate lo smartphone? Questo deve essere attivo. Però c'è tante persone che nemmeno conoscono questo NFC, che non lo usano almeno in un ambito quotidiano e di conseguenza tenerlo attivo consuma una piccola percentuale di batteria. Se il vostro smartphone Android ha un always on display, quindi quando teniamo il display spento, abbiamo orologio, notifiche e quant'altro, sicuramente all'interno delle impostazioni ci sarà un menu dedicato. Allora, in questo caso nella MIUI abbiamo questo menu dedicato e a mio avviso dovete disabilitare due funzioni. Allora, la prima, il solleva per attivare. Solleva per attivare perché tutte le volte che lo smartphone fa questo movimento, il display si riattiva, però questo movimento inconsciamente durante la giornata va a consumare batteria. Altra modalità da togliere, in questo caso io ce l'ho attiva, vedete, è la modalità tasca. Blocca le operazioni a schermo quando il dispositivo è in tasca. Sicuramente è comodo, però quanto il vostro smartphone sta nelle tasche, pensate quanto questa funzione vi può servire o meno in ambito quotidiano, beh, ecco questo fa sì che se non lo utilizzate ma è attiva, la batteria viene sicuramente drenata. Rimanendo sempre in questo menu delle impostazioni ma anche girovagando per il mio smartphone, vedete, io in questo caso ho un display AMOLED, ok? Un display AMOLED che con la modalità scura che è stata introdotta oramai in tutti gli smartphone Android va a risparmiare batteria. Quindi perché è stata introdotta la modalità scura? Perché è figa? Ma sì, sicuramente va a riprendere il nostro display, quindi il contorno nero del nostro display, ma allo stesso tempo è una modalità che vi permette comunque su un display AMOLED, i pixel neri sono spenti, di consumare meno batteria, quindi attivatela. Per quanto riguarda invece gli IPS fate il contrario, perché su un IPS invece la modalità non scura va a risparmiare batteria, quindi è il contrario. Questo è un passo molto importante della guida, batteria e prestazioni, quindi in ogni smartphone Android abbiamo un menu dedicato alle batterie, ok? Allora in questo caso entrando in risparmio energetico app, quindi andare a controllare ogni applicazione come è settata di base, ci farà risparmiare tanta batteria. Allora io vi consiglio questo, per quanto riguarda le applicazioni che quotidianamente usate sempre, ma dico sempre, potrebbero essere WhatsApp, Facebook, Telegram, quindi queste applicazioni Gmail, le fondamentali. Il mio consiglio è quello di utilizzare, ne apro una a caso, nessuna restrizione. Quindi non voglio nessun tipo di risparmio energetico su queste app, perché voglio che le notifiche arrivino puntuali. Di base sulla MIUI è settato in risparmio energetico consigliato, ok? Però ecco, se volete veramente andare a risparmiare batteria, su tutte le altre app, secondo me, dovete andare a limitare l'attività in background. Non far partire l'applicazione in background è perché non mi serve. Vado ad aprirla, ricevo le notifiche e quant'altro, quindi vado a limitare l'attività in background, ok? Questo vi permette sicuramente, ma vi dico per certo, di consumare molta molta meno batteria. Entro un attimo all'interno del mio iPhone, vedete, impostazioni generali, aggiorn up in background. Ecco, questa è una sfizza di applicazioni, quindi tutte quelle che ho all'interno del mio smartphone, che vedete, sono attive. Quindi in background vanno comunque a consumare un qualcosa. È vero che su iPhone, dopo 8 minuti, eccetera, eccetera, non so di dilungarmi, però ecco, non fate come me che le tengo tutte attive perché sono masochista, ma iniziate a selezionare quelle che volete veramente tenere attive e quelle che invece volete disattivare. Attenzione a questa fase, perché anche questa è molto importante e sta a voi la scelta. Allora, app, ok, impostazioni app, andiamo dentro permessi, avvio automatico. In questo caso vedete io ho Google Pay, l'unica app che è sempre attiva e dà l'avvio automatico attivo, mentre le altre sono tutte staccate, sono tutte spente. Allora, andando a tenere meno app attive nell'avvio automatico, anche qua si va a risparmiare qualche cosa in termini di batteria. Questo, mi raccomando, è una scelta vostra, quindi tenete attive solamente anche qua le app fondamentali, quelle che utilizzate di base, di default. Si lega al discorso che vi stavo facendo prima. E andiamo a disattivare scansione automatica di Wi-Fi e Bluetooth. Questa è un'altra funzione che consuma tanto, ragazzi, consuma veramente tanto, quindi andandola a disattivare sicuramente noterete dei miglioramenti. Spero veramente che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere qua sotto nel box dei commenti. Il buon Guerza anche per quest'oggi vi ringrazia, vi saluta e ci vediamo, ovviamente, nei prossimi video. Ciao a tutti ragazzi!